Sì, l'ultimo passaggio, magari l'ultimo tiro, perché anche il primo tento magari Lucio era lì, ma poi è scivolato, poi Rafa non ha trovato il tiro giusto e è mancato veramente pochissimo e per questo siamo anche un po' arrabbiati perché è un gol fuori casa, è sempre importante, ma è ancora tutto aperto da giocare e giochiamo a casa nostra. Avete cercato di vincerla, il Napoli a un certo punto sembrava accontentarsi di questo pareggio per poi giocarsi tutto a Bergamo. Sì, secondo il tempo loro si sono abbassati molto, hanno messo anche un centrocampista in più, hanno giocato con il due punto e poi non era facile trovare il spazio lì per giocare dentro, l'ultimo passaggio è mancato un po' di lucido, fiducia, è mancato poco, ma non era anche facile perché erano i nove lì. L'Atalanta c'è, lo ha dimostrato, ci tiene a questa semifinale e vuole andare in finale. Sì, abbiamo tanto voglia di andare in finale perché due anni fa abbiamo perso e è una grande occasione perché adesso abbiamo la partita in casa, a casa nostra e lì vogliamo passare il turno e andare di nuovo in finale per fare al meglio. Remo non ci si ferma, sabato il Torino Serie A. Sì, l'ultima partita in campionato abbiamo perso, quindi dobbiamo ritrovare i tre punti e quindi la partita di sabato è molto importante per stare lì sui primi quattro e quindi dobbiamo preparare al meglio in questi tre giorni e poi andare a giocare per vincere.